Un'occasione per parlare di donna, ma per farlo in maniera diversa, nel giorno della sua festa, ma comunque dando spazio e voce soprattutto ai ragazzi delle scuole. Era questo l'obiettivo di Federaziende Imprenditori Napoli e Fondazione Oiermo, era questo l'impegno, è stato questo il traguardo? Sì, infatti è stata una bella giornata, grazie appunto all'apporto della Fondazione Oiermo, alla partecipazione delle scuole, sono stati presenti e attenti alla discussione e ai temi che abbiamo portato oggi. Importante è appunto cominciare dai giovani, la cultura delle pari opportunità è lì, dobbiamo cambiare il modo di pensare della nostra società per aiutare in qualche maniera a combattere il fenomeno della violenza. Federaziende è nata da poco, questa è la prima manifestazione pubblica, sicuramente non l'ultima? Sì, assolutamente, ci saranno anche altre occasioni, ci stiamo organizzando con i nostri relatori per manifestare ancora le nostre idee, per essere accanto alle donne, alle mogli, alle lavoratrici, alle imprenditrici, non soltanto all'8 marzo.